Che città? Che messaggio andiamo a dare? Prima che mi ci consiglia di citare giustamente la parola di finestre rotte, la città di Oltre, la Piedtanta, si riprese, andando a condensare con questi fenomeni di criminalità. Mi siete mai chiesti come mai? Ricordo molto spesso la mia domenica, soprattutto d'estate, immagini di questi che perdono presi, dove le regole devono rispettare, presi al valore del popolo degli Stati Uniti, che magari si mandano il bagno dietro la fontana storica lasciata di loro, magari anche ci hanno alcuni documenti. Perché? Senza toccarliamente il tema dei tifosi del Facebook. Se volete poter mettere in piedi la dignità criminale, se volete poter mettere in piedi la dignità criminale, che dimittra la libertà o l'administratore, tanto nessuno viverà mai a dire qualcosa. Questo è il messaggio che la città di Oltre manda. È un messaggio che la città di Oltre non si può permettere. Proprio perché cura nella democrazia occidentale, come qualcuno mi ha avuto più volte, forse dovremmo ricordarci la fontanetta sulle quali questo palazzo sorge. Magari invitandoci a riflettere, a riflettere se stiamo facendo il massimo, non si viene con un'anima a essere sicuri, è sindaco per migliorare questa città. Io penso proprio di nuovo, non sono il solo a pensare, staventare il ricollezio di, che ho scritto la bicicletta, in un'occasione di marzo, ma anche in questo cascetto, la bicicletta per ricordare il proclame insieme a tu ma io, quindi come funziona, la bicicletta italiana che ci ha tornato, che ci sta tornando ora, tra che a mezzo, il massimo di questa espressione, la concilia, che sono state le annunci, mi presenta in un modo, cosa faccio completamente tutto questo, che sta facendo questa attivizzazione. perché anche si viene più importante, dove finalmente in questa città, vince ad esserci anche, una certa massa e lì, in tanti cittadini, non si fa anche la macchina di là. per il tempo, non si fa anche la macchina di là, ma non si fa anche la macchina, ma non si fa anche la macchina di là, ma non si fa anche la macchina di là. può fare quello che vuole le regole, sono notte, c'è chi le vuole rispettare, chi no, e anzi, rispetto alle regole, ha anche dei percorsi di viaggiare. Del resto, va ricordato che già tutti se ne sono dimenticati, se questa città è stata turmina, la mafia capitale, che probabilmente sono a punta dell'iceberg, con questo esorcio a cui avessi avuto un sistema che era attivo, forse lo sarà ancora in questa città, e penso che i sindagati possono avere risolto con i sindagati, i sindagati possono risolvere dei problemi strutturali, che hanno ricordato questa città, e del resto allora tutto torna, si capisce perché la politica non risolta i problemi, anzi a diventare i problemi, fa finta risolvere, perché poi i problemi ci mandano tutti, quando non si va fare delle intercettazioni e la volontà, la maggior parte degli utili, tra virgolette, li ha fatti con i migrati, già con il contatto, allora che si capisce che la politica non risolverà mai a quel problema, ma anzi quel problema da una parte gli fa comodo per custodia della politica, dall'altra quella della politica, quel problema divergente di avere certi affari, diciamo così, e tutti felici e contenti, tranne i cittadini in questa città, che vivono in condizioni sempre peggiori, e che vi fa ricordarlo ancora una volta, pagano le tasse più alti in Italia, e parte bene, perché le tasse parlo così, ma naturalmente, sia chi abito in un centro storico, sia chi abito in un'estralla periferia, dove l'estralla periferia per portare una crisi del principio essenziale, l'asfaltatura, non parlo assolutamente, è una nozione gestitaria di inclinazione, tanto altro, parliamo di un paese nazionale, prima si citava Pontevigliana, e quindi a 4, 12 cittadini, Pontevigliana ha acquistato la casa lì, anche perché gli fu promessa la stazione della ferrovia regionale dell'FR in due punti di oro, sono 11 anche i cittadini che non aspettano questa verità fermata di un treno, è possibile che ci vogliono 10 anni per fare una fermata di un treno, anche questo è un tema interessante, che ci piacerebbe vedere sotto, prima o poi, quando i cittadini sono rassegnati, pensando che loro problemi, non tornando mai i suoi problemi, e quindi ci dobbiamo così non parlare, non fare un lavoro, non lo porta i suoi problemi, a poi il percorso, di spettico e smantellamento di una società, per ricardinare, anche qui per riferire con la memoria, è importante fare tutti i suoi sostenimenti di acqua, e visto che si parte di un'altra volta, non lo ricordai, è una liberazione tra un solo, io ieri era una bellissima giornata, ero giù in centro, e vedevo tanti obbacus che giravano, con i turisti letteralmente aggrappati dietro, perché a Roma, abbiamo la fortuna, l'ultima che c'è rimasta, e aveva diventato nulla, quasi a stati mangiati, ora non si capisce come abbiamo fatto, ma anche in passato, bene, il servizio del genere, perché questa amministrazione abbia deciso di liquidare un servizio del genere che avrebbe voluto garantire di entrare ad aria. Ricordo, la limitazione di un tramusso, ed è avvenuta mezzanotte e mezza, non è il solito pazientamento di bilancio, che tutti vogliono senza legge. Guarda di cui il disegno è ben chiaro che questa amministrazione fa limitata, anche io ho ricordato sempre per rinfrescare la boia sul peso degli intimi anni che erano in tempo lasciate all'amministrazione interna e le virtù, l'amministrazione interna e le virtù in particolare, che hanno pensato bene che si perderà i grandi ero, i grandi opere che non hanno visto mai la conclusione. La più importante di questa è sicuramente la metropolitana, visto che parliamo di GTV. io penso che la metropolitana è il primo e ultimo caso della storia, dove viene avvenuto la metropolitana e non si sa di questa metropolitana, dove arriverà, quando e più, quando genererà soprattutto e come genererà. perché ad oggi ci sono tutti gli altri, la stessore di parola, il nostro, che è il presidente di ordine comunitane, ordine comunitane di dieci anni ha detto con l'aria, cosa che poi evidentemente non si è verificata per il fondo, perché se la metropolitana c'è stato il doppio, ed è stata considerata che il doppio dei tempi che qualcosa non ha funzionato, ma ci sono stato il doppio dei tempi. Dicevo se noi oggi diciamo a qualsiasi persona, a maniera, a Enzia, a un cuore dei tempi, non vi sa che si può dare la semplice domanda, dove arriverà, a metropolitana. C'è chi dice Borosseo, c'è chi dice Canzare Enzia, c'è chi dice Opaiano senza fare fermate, in questo caso della storia è che non è arrivata a Canzare Centro senza fare fermate, ma non si sa, non si sa, ovviamente, dove arriverà, anche in quale tempo ci arriverà. Figuriamoci, è un buon Presidente, diciamo male che stiamo parlando su un tema fondamentale, e non si sa ovviamente che un po' di sorse ci arriverà, quindi anche che quando vado a comandare c'è un sindaco marito, che ha questa foto italiana in Asini, a destra e a manca, ha approvato la versione a Metrocino con l'evento storico. La Metrocino è la più grande presa in giro della storia dell'evento italiana, e ovviamente anche in cui non si perdono i soldi, perché la Metrocino è stata, è fatto, fatto, fatto delle imprese in giro, quindi è vero. E' un po' di sicuro, 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 ma io non si capisco, non è in modo ce l'è di spiegare, le metri archeologici e in quanto altro, ma io ti chiedo, se stai facendo una metodologia da Maldosetges, che è stata fondata nel 90, ma lui non è stata fondata nel 750, le attivismo, il fatto che trovino dei metri archeologici o dei metri archeologici, per il tipo, perché appunto stiamo parlando di l'uomo. Davide a una macrocyclica rispetto pienamente il suo sistema, questo conquistito, le parti politiche, le imprese, tra servizi, i modi, i mani, i mani, e i cittadini, perché anche quando la macrocyclica aprirà, apre il terzo servizio, con una frequenza, la video che mi vuole sui 6 minuti, a me la volta da domani, potete viaggiare 90 secondi, viaggio a 6 minuti, non può presire il futuro con questa metafra, come se lo avessi a Tassi, ovviamente non posso farlo, ma non c'è se la Ferrari, vado da Ferrari con tanti, mi viene garantito che mi sarà consigliato a fare 3 mesi, mi viene consigliato a 6 mesi, senza un lavoro, un pacchetto rotto, che entra nella somma, che è la seconda marcia, gli dico al concessore Ferrari, gli vado un corso, gli dico che, grazie a che mi ha offerto questo servizio, se costava 100 milioni, non 110, me ritorno a casa, la mia Ferrari, non se la ripetando, è non funzionante, che vado a velocità, fredduta, questa è la metafra, questa è la mobilità, della città, della città, e quindi continueremo a fare, a fermare, una posizione, quest'Aura, ad un vecchio, di un vecchio, a un vecchio, a un vecchio, a un vecchio. Grazie, grazie. Grazie a tutti.